Senta, guardate voi dove va a incendere, no? Che cosa? Sto pezzo. Sì, sì. Ah, ok. Ciao a tutti! Allora, è venuta a trovarmi mia cognata dall'Italia, lei e Giada. Ciao! E abbiamo deciso di fare la challenge post challenge. Allora, sono animati? Ok, allora... Eh, non devo guardare, non ti ho? Ah, scherzo. Tirati. Non guardare che si vede dentro niente. Guardami. No, guardami. No. Non ti ho fatto, no? Non ti ho fatto. Vabbè, è incontro. Vabbè, quando si senti che sta a cadere, non ti ho fatto. Vabbè. Non guardare. Vabbè. 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 Mi sta levando tutto il fondo tinta. Vabbè. Vabbè. Allora, la categoria è il cassone animati. Allora, ehm... Insinio. Femmina o maschio? È femmina. Maschio. Femmina o maschio? Femmina o maschio? Ok. Sì. A me. Lo guardavo? Sì. Che cosa era femmina? Maschio. Lo guardavo? Sì. Mi tocco a me, no? Su quello che hai fatto tu. Ehhh... Che faceva? Cioè, che cartone animato era di cosa si trattava? No, non ti posso dire... Ehm... Grande, piccola? Piccola. E femmina. Sì. Ok. Io... Lo fanno ancora adesso, la definizione? Mmm... No. No, no. Posso indovinare? Indovinò Remy? No, no. Oddio, chi è? Non ti vedo? Vai a te. Allora, è femmina ed è piccola. Con chi vive? Non lo sai. Se non mi sbaglio, vive in collegio. Se non mi sbaglio, tutto il tipo del genere è una cosa del genere. Se non mi sbaglio... Oddio, la storia non la so io! Vabbè. Vabbè. Vai, fammela tu io. Che gioca? Non lo fanno più detto in televisione, no? No. Ne parlo spesso? No. Se non ho ancora da loro. Ho dei benji? No. Vai. Ehm... Com'era esteticamente? Ehm... No. Fammi una domanda specifica. Anza? No. Era anza, era basta, ma che colorava i capelli? Eh. Aveva i capelli per dire neri, che ne so? Eh, che cosa? Tu sai cosa cosa? No, non ce la posso di scriverla! No, non ce la posso di scriverla! No, non ce la posso di scriverla! Tu mi devi fare una domanda! Ok. A me la mia capella? È realtà? No, normale. Era sportivo? Sportivo? Ah, maschio eh? Madonna che memoria... Era sportivo? Pianmeno... Non tanto... Non tanto... Ma io lo conosco. Sì. Ma sei sicura che lo conosco? Sì. Perché io non li so tutti i cartoni animati, eh? Lo sai. Spongebob? No. Non lo fanno più in televisione, no? No, vabbè. Eh, capelli color panna, color neri o biondi, no, cioè, neri, no, capelli neri, neri, maschio neri. Ah, no, no, è mio! Non aveva i capelli. Non aveva i capelli? No, aveva il pelo. Oddio, chi è che aveva il pelo? C'è una canzone che la cantavo sempre io da piccola e di Cristina da Venna, mi sa. Che aveva il pelo, chi è che ha il pelo? Vabbè, pelosi Pelosi Petaloso Vabbè, allora tocca a me Allora, non aveva capelli neri Aveva capelli... Oddio, non lo so Dove viveva? In città? In periferia? Vabbè Non so, non sai Non so, non aiuto Tu non devi sapere però La so, sicura Si, la sai, 100% che la sai Tu la sai Che è stato Oppure Non è che ti abbiamo Marco, ferma, mi fai cadere tutto Non è che ti abbiamo preso in giro su sta cosa Tra virgolette Cioè, per te era come se che ti stavamo prendendo in giro Però noi non lo facevamo apposto Cioè, non ti stavamo prendendo in giro Beh, moda ti ho aiutato Ti ho aiutato A cui io si mingga Quindi so, c'è qualcosa in comune Cioè, no, non è niente in comune però, diciamo Ti ho aiutato già, dai, parecchio E quindi a me Chi è sto peloso? Che cantavi tu quando eri piccola? Sì, sempre cantavo Ma ma che c'hai con le faccia? Perché stavo facendo in gioco Che colore è? Nero I peli marrone I peli marrone Facciava un casino Non girava Tasmania Sì Tasmania Tasmania Tassi, tassi, tasmania Vai Ehm Fammi qualsiasi domanda che vuoi Mi vuole tocca a me, no? Allora, non aveva capelli neri Aveva... Che capelli aveva scusa? Rossi Mo, mo, proprio Ah, non aveva capelli rossi Addio Allora, ecco Allora, mo che categoria facciamo? Mmm, che categoria facciamo? E tu scrivi nel frattempo E tu scrivi nel frattempo? E tu scrivi nel frattempo? E tu? E tu? E tu? E tu? Io ne prendi due Una è bianca e una è tu E tu? E tu? E tu? Vai Mamma, mi arrivi per la spetta Ma io sto guardando Ma non ho letto, te lo giuro Non ho letto io immagino sbagliato scritto che cosa ha scritto? vieni oh io? sì 4 lingue che cosa ha scritto? vai cominciando dai allora maschio o femmina? caccia la lingua? tutto in blu femmina o maschio? maschio Anthony no di carlo di carli di carli leonardo di carli vai avvenendo il gioco mettiamo 2 a 1 no 2 a 0 vai allora è femmina di cosa parla nei video fa video? è una che fa video su youtube? e poi ti rispondo è una che fa video su youtube? sì ok di che cosa fai? tu fai 3 domande in una no? vabbò che fa? un po' di tutto greda manchi no attenzione attenzione è la sorella di entone di francesco adizioni non so come si chiama no sicuramente di francesco fatico il nome beh grazie no non è lì non è lì mmmm oddio mi trovo in difficoltà guarda che facile è più facile di quanto tu pensi ah non bruia bella allontanati è bellissimo ah ho capito quella è romana mia no no quella è romana mia no vabbè quella è top top è un maschio femmina femminuccia non so ma ti sei scritta ma non so leggere non so leggere ti sei scritta non te lo posso dire non te lo posso dire oddio ho visto mai i video suoi sicura si quasi tutti attenzione quasi tutti no si no si no era facile però oh tu non riconosci gli altri che conosci me dai è andato il ghiaccio all'indenta non so se si scrive esattamente così adesso è il piano ok è veloso chi era veloso? Tasmania ah Tasmania ah io so che è che adesso è iscritta della vostra linea sì allora maschio femmina maschio 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 anche il mio no vabbè fammi la domanda maschio femmina no vabbè no non era buona la domanda perché oramai lo so quindi è gruppo o single è che non è sposato no è un gruppo è un singolo è un gruppo è singolo ma non è sposato comunque è sposato quindi sono un'altra cosa non è sposato non lo so vabbè dai dimmi boh c'è una storia Pietro eh lo conosco eh lo conosco lo hai sentito sicuramente lo conoscono tutti lo conoscono tutti 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 vabbè lei allora lui è maschio pure un baby che genere canta? popo cioè rap rap no rap si dice in francese rap 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 jx dai oh pass no a me tocca uno alla volta no due altre quattro cinque allora che genere canta? ti vedo qualche certo forse poi è un po' il napoletano ma non è che è proprio napoletano italiano comunque eh Rosario Veraggio? no quello canta tutto il napoletano insomma un po' il napoletano se non sbaglio non mi ricordo se ha fatto qualche cioè in qualche sua canzone c'è un po' di napoletano ma non penso in genere in italiano comunque canta che cotelone? no no vai no vai no e generera a te rap ah ok a tatuaggi posso un altro? sì forse sì penso di sì mi piace come cantante? cioè me lo ascolto? no ma è tu? sì è 18 anni c'è? sì è sud sound system sì dai sud sound system non si scrive così SISTER così non si scrive non so allora sud sound system è così non so come si scrive no? ehm a me allora non me lo ascolto ti piace? no a me mi piace? no l'odio l'odio cioè non è che l'odio ti do un coso mio mi aiuto bravo su facebook lo coglionano giudice d'alessio bravo e ma quello è napoletano però scusa eh e poi è sposato eh sì non lo sapevo io perché io non lo sento scusa? ah lo sento lo sentivo lo sentivi? lo sentivi d'alessio 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 bene una persona che conosciamo noi dal reale in realtà guarda questa persona non penso proprio d'alessio d'alessio tu 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 si ma sta scritto in basso vedi? qualcosa no se lo faccio neanche vedi dai femmina maschio aspetta così un po' si vede dai femmina si femmina maschio femmina femmina ok vista simpatica? si è grande è grande è grande è giovane ok è grande ma è giovane i capelli neri? un pochino si si che vuol dire? che c'ha qualche colore in più non c'ha qualche colore in più più o meno sulle punte sono un po' biondi prima prima tenevano la saduce la Federica? no di che c'è la saduce? tu? no non ho mai avuto la saduce infatti va beh a te tocca no no non mi sta simpatica? si conto? si è una mia amica no parente amica si ah la mia questa qua è mia amica pensavo che mi stiamo messi nella canzone che se non ho ah questa qua è mia amica si o è parente? no è amica amica mia ah la femmina si ah non la dire è una cugina per me è cugina acquisita però per me parente è più o meno vabbè dai io non posso metterla senti dovevo dire cugina acquisita vabbè dai non la posso metterla e poi basta allora è femmina è grande al giovane si è grande al giovane mi sta simpatica mi sta molto simpatica ci parlo si adesso mmm quando ci mettiamo ci mettiamo come è la parlare? una rugina si ahahahah si il video è finito con lei ne faremo altri fino a quando sta qui in in germania e poi però se ne dovrò andare in italia e io resterò sola però finchè tanto c'è cercheremo di farne altri e e noi vi saluziamo e noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao